Gli ultimi giorni di vita di Gesù parliamo oggi con il professor Alessandro Barbero e con Emanuele Lucchetti, Francesca Fanelli e Pietro Sorace. Professore, prima di cominciare la domanda delle domande, le cose di cui parliamo nella puntata di oggi sono realmente accadute, come si può dire, delle storie dell'imperatore Augusto, di storie di duemila anni fa o no? Io direi questo, intanto noi dell'antichità ne sappiamo molto meno di quello che ci piacerebbe sapere, sappiamo molte cose ma non tutto sui potenti dell'epoca, su Augusto, su Tiberio, sui loro parenti, sui loro ministri, sulla povera gente che viveva nell'impero sappiamo pochissimo. Allora, se noi di un suddito, un miserabile che viveva in una provincia lontana dell'impero abbiamo 4-5 testimonianze sulla sua vita e sulla sua morte scritte entro qualche decennio da quando i fatti sono accaduti, ecco, sembra un po' difficile pensare che non sia veramente vissuta questa persona, non c'è nessun altro suddito dell'impero romano su cui noi abbiamo così tante informazioni. Poi naturalmente siccome quest'uomo ha creato un movimento che lo ha immaginato, lo ha voluto vedere in lui, prima il Messia aspettato dagli ebrei, poi comunque il figlio di Dio, l'iniziatore di una nuova vita per tutta l'umanità, beh è chiaro che chi ci credeva si è anche immaginato tante cose. Quindi noi non possiamo essere sicuri del singolo particolare della vita e morte di Gesù fino a quando non vengano fuori altri dettagli, come per esempio che Ponzio Pilato è esistito perché ci sono delle lapidi che parlano di lui, ma che Gesù sia esistito e abbia fatto più o meno quello che ci viene raccontato in gran parte io credo che sia indiscutibile. Perché come lei diceva gli storici ne parlano solo qualche decennio dopo e non ci sono storici coevi che ne parlano? In realtà a dire la verità non sono storici quelli che ne parlano e questa è una prima difficoltà perché gli autori dei Vangeli non stanno facendo un lavoro di storico che confronta delle fonti, delle testimonianze, che avanza dei dubbi, stanno raccontando quello che i discepoli si ricordano del Maestro e per un po' di anni l'hanno raccontato appunto, per un po' di anni dobbiamo immaginare che siano passati di bocca in bocca ecco i ricordi di quello che Gesù diceva, di quello che ha fatto ed è chiaro che a quel punto i ricordi come dire, si ingrandiscono e si arricchiscono, poi a un certo punto hanno deciso di scrivere e questi sono i Vangeli. Primo capitolo della nostra storia, quello di cui stiamo parlando col professor Barbero. Vangeli a parte, sono scarse le attestazioni della storicità di Gesù. La vita di Gesù di Nazareth fino agli ultimi giorni che culminano con la morte e la resurrezione è narrata dai Vangeli. Quelli canonici, scritti da Matteo, Luca, Marco e Giovanni tra il 65 e il 90 d.C. e quelli cosiddetti apocrifi, scritti successivamente e dall'origine più incerta. Ma quali sono le attestazioni della storicità di Gesù? Quali testimonianze emergono in ambito non cristiano della sua vicenda? La più significativa è quella di Publio Cornelio Tacito. Nel quindicesimo libro degli Annales, commentando l'incendio di Roma del 64 d.C., di cui correvoce sia responsabile lo stesso imperatore Nerone, così scrive. Per soffocare ogni diceria, Nerone spacciò per colpevoli e condannò a pene di crudeltà particolarmente ricercata quelli che il volgo, detestandoli per le loro infanie, chiamava cristiani. Derivavano il loro nome da Cristo, condannato al supplizio sotto l'imperatore Tiberio, dal procuratore Ponzio Pilato. Intorno al 120 d.C. è il biografo degli imperatori romani, Gaio Svetonio, a fornire un altro significativo indizio sulla figura di Gesù, detto il Cristo. Nel capitolo dedicato all'imperatore Claudio, scrive che espulse da Roma i giudei, che per istigazione di Cristo, erano continua causa di disordine. A Cristo e ai cristiani si riferisce anche Plinio, il giovane governatore della Bitinia, che in una lettera chiede all'imperatore Traiano se siano o meno corrette le procedure che sta applicando nei confronti dei cristiani. Interessante quanto controversa è inoltre la testimonianza che compare nel libro diciottesimo delle antichità giudaiche dello storico Flavio Giuseppe, scritto intorno al 93-94 d.C., noto come Testimonium Flavianum. Visse in questo tempo Gesù, uomo sapiente, seppure lo si deve definire uomo. Operò infatti azioni straordinarie e fu maestro di uomini che accolgono con diletto la verità. Egli era il Cristo. Anche quando per denuncia di quelli che tra noi sono i capi, Pilato lo fece crocifiggere, quanti da prima lo avevano amato, non smisero di amarlo. Egli apparve loro il terzo giorno di nuovo in vita, secondo che i profeti avevano predetto di lui. Nient'altro di significativo affiora riguardo la figura storica di Gesù. Nessun altro testo riferisce della sua attività, assimilata a quella dei tanti profeti, predicatori e guaritori carismatici che in quel periodo percorrono la regione. Quella tumultuosa Palestina, in attesa di un Messia che la liberi dalla dominazione romana. E dunque perché non volete leggere i segni dei tempi? Pietro Sorace, a me, da quello che ho sentito, il racconto più completo sembra essere quello di Flavio Giuseppe. Sì, il più completo ma anche il più controverso. Si è a lungo dibattuto se fosse totalmente veritiero questo racconto perché Flavio Giuseppe è uno storico giudeo non convertito al cristianesimo e quindi sempre dubitato su queste affermazioni, su Gesù era il Cristo, queste affermazioni abbastanza di parte. In effetti poi nel 1971 si è scoperto un codice siriaco che testimonierebbe delle affermazioni ben più ridotte. Questo perché? Perché dobbiamo pensare che le nostre fonti arrivano attraverso secoli anche di interpolazioni di scrivi, ovviamente in ambito cristiano, eccetera, che facevano, aggiungevano un po' dei passi che secondo loro andavano aggiunti a questi testi. Questo è esattamente quello che diceva lei, professore. Un'integrazione di informazioni non è semplicemente il racconto di Flavio Giuseppe ma qualcosa che ci dice che quel racconto è sostanzialmente veritiero. Diciamo, è una cosa ancora che va al di là perché un conto è il fatto che un evangelista scriva 30-40 anni dopo la morte di Gesù e ha sentito raccontare cose miravigliose. Uno degli evangelisti ha sentito raccontare che ha fatto risorgere un certo Lazzaro dalla tomba e lo scrive. Gli altri tre non l'hanno mai sentito, non lo scrivono. Ognuno scrive quello che gli è arrivato. Qui siamo di fronte a una cosa ancora più fine e cioè uno ebreo però romanizzato, integrato nell'impero il quale non può non raccontare se gli capita l'occasione che c'è stato questo personaggio e questo fenomeno però poi noi abbiamo il testo di Flavio Giuseppe, non scritto da lui e il meccanismo che noi dobbiamo immaginare è questo Flavio Giuseppe scrive visse in quell'epoca Gesù e lo scriva che sta copiando ma questo è Cristo e lo aggiunge egli era il Cristo e a noi sembra che siamo parole di Flavio Giuseppe mentre in realtà molto probabilmente non lo sono. Comunque dovendo riassumere il quadro dell'epoca Gesù Cristo era il capo di una rivolta giudaica che aveva delle caratteristiche sue e si contrapponeva a un'altra rivolta giudaica che invece voleva essere armata, combattente è questo il quadro dell'epoca? Forse perfino la parola rivolta è controversa è certamente un predicatore è certamente qualcuno che vuole introdurre una riforma della religione ebraica e che si oppone ai poteri costituiti del mondo ebraico dell'epoca sicuramente, sicuramente poi ovviamente se uno è cristiano ritiene che sia in realtà il figlio di Dio che è venuto non per correggere ma per trasformare completamente quella che era la religione antica nella nuova fede cristiana ma in ogni caso si tratta di un movimento appunto non violento e questo lo distingue da tanti altri movimenti che c'erano appunto nel mondo ebraico Emanuele Rocchetti, perché alcuni Vangeli non finiscono nel Nuovo Testamento? Sì, sono scritti dell'epoca e molti appunto non concluirono nella rosa dei Vangeli canonici del Nuovo Testamento proprio perché spesso proponevano un'immagine troppo giudaica di Gesù o una visione abbastanza agnostica, spirituale e quindi poi nell'ottica cristiana divergevano da quella che sarà l'ortodossia uno di questi è il Vangelo di Tommaso Vangelo abbastanza particolare che restituisce un'immagine di Gesù spirituale, mistica quasi come fosse un monaco che stava vivendo la propria esistenza terrena nella sua più totale completezza ecco perché Tommaso non parla, non racconta né della morte di Gesù né della risurrezione, non racconta i fatti ma riporta esclusivamente le parole di Gesù poi nell'ottica appunto di una selezione cristiana per i Vangeli del Nuovo Testamento dobbiamo anche sottolineare che molti furono scartati perché non rispondevano a quei criteri idonei per la diffusione del messaggio religioso ed eccoci a quello che lei diceva all'inizio lei parlava quattro testimonianze di Vangeli tutto sommato coincidenti però ce ne sono altre che perché non coincidenti sono state scartate e allora torniamo allo storico ma come facciamo noi a scegliere che quelle quattro sostanzialmente ci raccontino una storia vera? ma infatti non siamo noi che dichiariamo che quei quattro sono migliori come fonti storiche rispetto agli altri la scelta dei quattro Vangeli canonici è una scelta teologica in quei quattro Vangeli la Chiesa a un certo punto ha deciso di riconoscere dei testi che effettivamente ci trasmettono il vero insegnamento di Cristo ben inteso senza neanche pretendere che corrispondano in tutto perché i teologi hanno sempre saputo che ci sono contraddizioni anche fra i quattro Vangeli canonici ma non importa proprio perché il Cristo che interessa alla Chiesa non è soltanto l'uomo storicamente vissuto è un messaggio che ha un'altra valenza anche metafisica noi storici cosa impariamo? che queste fonti contengono anche racconti contraddittori quindi non è tutto storicamente vero quello che c'è dentro ecco e quindi anche nei Vangeli che la Chiesa non riconosce come canonici ci possono essere forse degli aspetti del Cristo veramente esistito di sicuro e per noi è altrettanto interessante qualcosa che la gente credeva di Cristo perché è ancora più interessante in realtà ciò che per secoli milioni di fedeli hanno creduto e raccontato non sapremo mai se Gesù ha davvero fatto o non ha fatto certe cose o ha detto o non detto certe cose non sapremo mai se davvero fabbricava gli uccellini di terracotta e poi i suoi fedeli erano sicuri che fosse capace di dargli la vita come racconta uno dei Vangeli apocrifi ma ricostruiamo un mondo il mondo di quell'Oriente dominato e inquadrato dall'impero romano e dove però c'era tutto un fermento appunto metafisico tutta una civiltà che era molto lontana da quella greco-romana e che però invece ha plasmato il nostro mondo mi ha incuriosito una cosa nel filmato quella lettera a Traiano di Plinio il giovane Francesca Fanelli ma Traiano rispose a Plinio il giovane? certo rispose e siamo nel contesto del secondo secolo dopo Cristo e dalla risposta di Traiano appare un atteggiamento abbastanza moderato perché Traiano risponde che non bisogna perseguire cristiani direttamente bisogna andare a caccia ovviamente se denunciati possono essere puniti ma prima di tutto le denunce anonime non venivano considerate e inoltre il denunciato poteva sempre affermare di non essere cristiano come sacrificando gli dèi e questa testimonianza è molto importante dal punto di vista storico perché ad oggi non abbiamo una certezza se il cristianesimo fosse considerato realmente un reato non c'è un fondamento giuridico da questo punto di vista sì certo non c'è fondamento giuridico per considerarlo un reato però al tempo stesso è sicuro che la polizia e i cristiani li deve schedare ecco fondamentalmente quindi sono dei pregiudicati se non altro c'è un'antipatia evidente dopodiché appunto ci sono imperatori più moderati i quali dicono benché questa gente sia un pericolo però non voglio lanciare una caccia alle streghe teneteli d'occhio per adesso e poi vedremo adesso le faccio vedere un filmato secondo il Vangelo di Giovanni un evento spinge il Sinedrio a volere la morte di Gesù ed è proprio quello che citava lei prima la risurrezione di Lazzaro padre grazie per avermi ascoltato padre ora chi è intorno a me potrà vedere che io sono la risurrezione e la vita e chi avrà fede in me vivrai in eterno Lazzaro vieni fuori professore lei ha detto prima che solo in un Vangelo esiste la risurrezione di Lazzaro e noi abbiamo sostenuto anzi si sostiene che è questo quello che scatena l'ira del Sinedrio ma allora secondo gli altri Vangeli cos'è che scatena l'ira del Sinedrio? l'ira del Sinedrio intanto non dobbiamo dimenticare che i Vangeli sono scritti in una prospettiva religiosa in cui Gesù è venuto sulla terra per sacrificarsi per morire per salvare l'umanità quindi il Sinedrio deve arrabbiarsi con lui in buona sostanza tutto quello che fa Gesù è fatto naturalmente per allarmare i custodi della tradizione entriamo adesso nel secondo capitolo raccolto come Messia Gesù entra a Gerusalemme e sono i suoi ultimi giorni Nella settimana che precede la Pasqua ebraica Gesù, a dorso di nasino entra a Gerusalemme tra due ali di folla che lo acclamano come Messia Ecco, guarda il torè che viene a te umile e mansueto A questo punto, secondo i Vangeli la sua fama è già diffusa in tutta la regione soprattutto per i miracoli che ne hanno rivelato la natura divina A Gerusalemme, gremita di pellegrini si trova in quel momento anche il prefetto Ponzio Pilato Dall'ingresso a Gerusalemme è impossibile stabilire una cronologia di ciò che avviene dalla Domenica delle Palme al Giovedì tradizionalmente riconosciuto come giorno dell'ultima cena Stando ai Vangeli Gesù, nei primi giorni della settimana di Passione si dedica essenzialmente alla predicazione e all'insegnamento nel Tempio e la sera si ritira con i suoi discepoli fuori dalle mura della città presso il Monte degli Olivi L'attività del Nazareno in questa fase è più che altro rivolta a contestare la gestione del culto e l'autorità religiosa ebraica Scrivi e Sadducei i più severi custodi della tradizione chiedono il rispetto inflessibile e integrale della legge vuoi che il nostro popolo non rispetti più il riposo del sabato ma se uno di voi avesse un capretto che gli è caduto nel pozzo di sabato non andrebbe subito a salvarlo ma Dio ha fatto il sabato per l'uomo non l'uomo per il sabato no, no, ci rendiamo conto di questo ci rendiamo conto di quello che vuoi dire ma non creerà confusione per gli sprovveduti Gli iscrivi interrogano Gesù gli domandano da dove deridi la sua autorità, il suo potere cercano di metterlo in difficoltà di farlo cadere in trappola fino a quando Gesù non compie un gesto clamoroso Gerusalemme la più infame delle città non puoi amare due padroni il tuo Dio e il denaro questa è la casa della preghiera e voi l'avete trasformata in un covo di ladri da questo momento, secondo i Vangeli i capi del Sinedrio tramano per farlo morire ma chi temono in realtà? l'uomo venuto a portare la pace o la spada? il predicatore o il rivoluzionario che parla di distruggere il Tempio? giovedì 14, Nisan è la sera dell'ultima cena segnata dall'istituzione dell'Eucaristia questo è il pane della vita chiunque mangia questo pane vivrà eternamente prendete e mangiate nella stessa circostanza Giuda Iscariota si rivela come traditore pronto per 30 denari a consegnare il maestro ai suoi nemici ma andrà fatto senza dare nell'occhio i capi del Sinedrio temono la reazione della folla che segue il venere Nazareno il luogo più adatto per catturare Gesù è l'orto del Getsemani sul monte degli Olidi questa è l'ora Giuda l'ora delle tenebre oh maestro con questo bacio tu mi tradisci vedete che è una rivolta che è una rivoluzione Pietro Sorace questa rivolta portata dentro il Tempio è quella di un grande capopopolo adesso io non entro in una vicenda religiosa ma che provoca preoccupazione appunto al Sinedrio si preoccupazione non tanto per il gesto in sé perché esempio nel Vangelo di Matteo si cita Geremia quindi l'Antico Testamento per cui in realtà anche il profeta aveva definito questa spelonca di ladri come non il suo Tempio quindi di lottare per difenderla dai ladri quindi dai mercanti truffaldini che Gesù trovò e di cui si sbarazzò quindi nel Sinedrio la preoccupazione è questa cioè che si assuma un'autorità quest'uomo di cui non rispetta il processo perché vi erano pochissime ordinazioni e quindi bisognava rispettare tutti i gradi arriva quest'uomo e pretende di avere un potere quando non può averlo è così che è fuori legge? sì, è così e anche bisogna pensare al contesto del popolo ebraico di allora che si trova sotto occupazione militare romana e le autorità sono autorità collaborazioniste che hanno garantito di mantenere l'ordine il popolo resterà tranquillo pagherà le imposte e il popolo invece rischia di non restare tranquillo perché un'altra cosa che noi ci dimentichiamo è che Gesù non è soltanto odiato e visto come un pericolo dal Sinedrio anche se se ne parla poco è sicuro che anche una parte del popolo ebraico di fronte a uno che arrivava dicendo che bisognava ripulire il tempio sovvertire le regole una parte del popolo lo avrebbe aggredito così come pochissimi anni dopo aggredirà San Paolo San Paolo predica a Gerusalemme e sono gli ebrei stessi la massa che lo aggredisce costringendo i soldati romani ad arrestarlo per metterlo al sicuro in cella poi devo dire che l'aggressione di Gesù contro il tempio è davvero una cosa da interpretare in modo molto stratificato perché nella nostra civiltà è diventato naturalmente il simbolo del fatto che non bisogna mescolare il sacro e il profano ma in realtà Gesù nel tempio colpisce delle pratiche religiose tradizionalissime perché i mercanti erano lì a vendere animali da sacrificare la brava gente andava al tempio e si comprava il capretto o se eri povero il piccione, la colomba da sacrificare a Dio e i cambiavalute erano lì perché la gente voleva fare delle offerte al tempio ma nel tempio non sono ammesse immagini neanche le monete romane con la faccia di Cesare è molto chiaro senta Francesca Fenelli provi ad aiutarci a raccapezzarci fra Sadducei, Farisei tutti questi nomi a che corrispondono? corrispondono alla divisione della società ebraica che all'interno era abbastanza differenziata dagli autori antichi sappiamo che vi erano i Sadducei che erano gli aristocratici da cui appunto derivavano i sommi sacerdoti che rappresentavano il popolo ebraico di fronte all'impero romano o ad esempio i Farisei che erano più popolari ed erano coloro che osservavano in maniera rigorosa la legge tra i quali vi erano gli zeloti che erano più attivisti dal punto di vista politico perché rivendicavano l'indipendenza l'altra setta contrapposta a quella di Gesù ma ci troviamo di fronte a una realtà politicamente complessa e forse l'esito di questa storia è dovuta alla complessità non era facile trovare una soluzione a quelle giornate vissute nell'anno che poi non si sa qual è no, e sono quei casi in cui la politica decide che è meglio semplificare e semplificare drasticamente certo, anche la posizione di Gesù è tutt'altro che semplice perché noi finché non abbiamo capito cosa vogliono dire queste parole pensiamo appunto ai Sadducei, ai Farisei Gesù è contro le elite ebraiche che sono elite in realtà secolarizzate ellenizzate cioè vivono come greci ormai vanno in palestra, fanno sport e Gesù è contro questo però è contro anche gli zeloti contro i fanatici dell'interpretazione letterale della legge quindi in realtà ha un suo percorso molto difficile da seguire un'ultima questione una cosa che a me ha lasciato sempre perpresso è il ruolo di Giuda possibile che i romani avessero bisogno di Giuda con un compenso ridicolo 30 denari è stato contato che fossero l'equivalente di 30 euro qualcosa del genere e che desse un bacio a Gesù per indicarlo e trovarlo era evidente chi era il capo non mi torna questa storia di Giuda beh non ne avevano bisogno i romani ma forse i cristiani sì cioè mi spiego Giuda è il traditore per antonomasia ormai è un sinonimo nel nostro linguaggio comune solo che la sua figura viene completamente ribaltata letta in un'ottica nuova in questi scritti nel Vangelo di Giuda appunto rinvenuto in Egitto negli anni 70 più o meno del secolo scorso il Vangelo pone l'accento sul fatto che fosse necessario che Giuda tradisse Gesù e che quindi si ponesse come strumento per il compimento del disegno divino di redenzione dell'umanità dove il sacrificio di Gesù era centrale e qui Giuda viene letto come apostolo più vicino a Gesù apostolo consapevole del suo tragico destino che era quello di tradire un amico per venderlo alle autorità romane perché serve ai cristiani perché i cristiani il cristianesimo poi pian piano allontanandosi dalla sua matrice ebraica ha bisogno di negativizzare la figura dell'ebreo e quindi Giuda diventa il simbolo negativo quindi è un'operazione politica mi ha convinto è un'operazione politica quella di identificare Giuda nel traditore in realtà anche Papa Benedetto XVI ha fatto delle analisi interessantissime sul ruolo di Giuda viene inventato che è un traditore perché delle due l'una se è necessario che Giuda baci Gesù perché si compia il processo non è un traditore è un pezzo fondamentale della storia degli ultimi giorni di Gesù certo e qui possiamo essere tranquilli effettivamente è chiaro che non c'era bisogno che Giuda andasse lì a baciare Gesù perché i soldati del tempio sapessero chi è che dovevano arrestare io tra l'altro non sono un teologo e non me lo sono mai chiesto mi viene in mente adesso sicuramente una risposta c'è magari l'ha già data appunto Papa Benedetto ma il nome stesso di Giuda è un nome pesante uno dei due grandi regni degli ebrei nel passato era stato il regno di Giuda è un nome che è quasi sinonimo di nazionalità ebraica insomma e quindi mi chiedo molti ebrei questa domanda se la sono fatta ma entriamo nel terzo e ultimo capitolo della nostra storia Gesù è processato e condannato a morte per l'esa maestà Nella notte di giovedì Gesù viene condotto davanti al sommo sacerdote Anna suocero di Caifa per essere interrogato un secondo interrogatorio si svolge nelle prime ore di venerdì proprio davanti al sommo sacerdote Caifa ti chiedo ora nel nome dell'Eterno sei tu il Messia il figlio di Dio io lo sono per il Sinedrio Gesù è reo di bestemmia imputazione che prevede la condanna a morte ma al Sinedrio non è consentito eseguirla può farlo solo l'autorità romana il Nazareno viene quindi condotto davanti al procuratore della Giudea Ponzio Pilato Pilato non è propenso ad assecondare le richieste del Sinedrio ma c'è un capo d'accusa che il prefetto di Roma non può ignorare l'autoproclamazione di Gesù di Nazareth a re dei giudei davvero tu sei il re dei giudei? se il mio regno fosse di questo mondo il mio popolo non avrebbe esitato a combattere per cercare di liberarmi oh tu parli di un regno allora sarai sicuramente un re sei un re sì lo sono per questo sono venuto al mondo per testimoniare la verità e qual è allora questa verità quest'uomo è un sognatore non un criminale Pilato cerca una via d'uscita mentre il Sinedrio preme per la condanna a morte al termine della sua istruttoria Pilato non rileva alcuna colpa in Gesù nemmeno l'accusa di essersi proclamato re dei giudei gli sembra fondata ma i membri del Sinedrio insistono se non lo condanni gli dicono non sei amico di Cesare il reato di lesa maestà per i cittadini non romani come Gesù comporta la morte tramite crocifissione a Pilato non resta che un ultimo tentativo previsto dalla tradizione per le festività della Pasqua liberare un prigioniero Gesù o Barabba il predicatore o il ladro responsabile di omicidio e sedizione la folla sceglie Barabba Gesù crocifisso con i piedi e i polsi trafitti da chiodi dopo circa tre ore di agonia spira intorno alle tre del pomeriggio di venerdì secondo i Vangeli ad occuparsi della sua sepoltura è un membro del Sinedrio Giuseppe Darimatea per Giovanni Evangelista con lui c'è anche Nicodemo un altro membro del Sinedrio la domenica mattina alcune donne giunte al sepolcro lo trovano vuoto per i romani e gli avversari dei cristiani sarebbero stati i suoi amici a trafugare il corpo del Nazareno e a far circolare la voce della resurrezione secondo i Vangeli invece Gesù sarebbe realmente risorto e dopo la morte avrebbe incontrato diverse volte i suoi discepoli era tutto scritto il figlio dell'uomo avrebbe sofferto e il terzo giorno sarebbe risorto dalla morte nella sua gloria Pietro Sorà c'è altra storia che non mi convince è quella di Piozzo Pilato lui in fondo demanda una decisione così importante a quelli che hanno sollevato la questione gli ebrei e viene passata una storia come quello che se ne ha lavato le mani ha fatto una cosa legittima Sì infatti l'ignavia di Piozzo Pilato è stata molto rivalutata da uno storico del diritto che ha sollevato appunto il caso sostenendo tramite appunto anche il diritto romano che una di queste norme era che non si udisse non venisse ascoltate alle vane voci del popolo quindi pare veramente inverosimile che Piozzo Pilato sia andato al popolo e quindi sia lavato le mani come la storia ci racconta Piozzo Pilato è un personaggio da romanzo innanzitutto da grandi romanzi come il maestro e Margherita per esempio di Bulgakov però da storico io direi che in ogni caso Piozzo Pilato è l'esempio di come l'impero romano funzionava e cioè cercando di andare d'accordo con le elite locali e anche con le popolazioni perché non puoi sempre soltanto reprimere e in quel senso forse tutto sommato davanti alla folla tumultuante anche un governatore romano può darsi che ogni tanto preferisse fare un passo indietro che c'è scritto nella targa sulla croce che significa? sempre ad opera di Ponzio Pilato la scelta di scrivere Inri e cioè Gesù Nazareno re dei giudei diciamo che permette all'impero romano di compiere un'azione involontaria e cioè riportare il motivo della condanna di questo appunto di questo condannato a morte ecco e invece di scrivere colui che presumeva di essere il re dei giudei Ponzio Pilato lo sintetizza e scrive direttamente il re dei giudei quindi è lui a conferirgli il titolo reale quello che si è presentato come vostro re e voi l'avete ucciso fatti i vostri no no certo da questo Gesù a un certo punto gli dice tu l'hai detto no e quindi certamente viene da lì dopodiché a me vengono tanti dubbi e mi accorgo che non sono preparato a sufficienza per questa puntata perché per esempio da quelle parti si parlava molto più greco che latino l'avranno davvero messa in latino questa scritta sulla croce dubito dubito Francesca Fanelli che storia ha la croce poi successivamente beh è interessante notare come il simbolo della croce abbia subito una completa metamorfosi cioè all'inizio la crocifissione era l'umiliazione per eccellenza come abbiamo visto anche dal filmato è la più brutta forse delle torture attribuite non ai cittadini romani perché solo agli schiavi e a coloro che non lo erano appunto cittadini e diventa appunto il simbolo del messaggio cristiano il simbolo di salvezza dell'umanità per eccellenza ovviamente questo cambiamento avverrà gradualmente però possiamo individuare un momento di svolta con Costantino non solo per la celebre visione in Oxinio Vinces ma anche perché lui abolì la crocifissione e certo perché a quel punto è chiaro che non è più possibile continuare a crocifiggere le persone in un impero cristiano dove appunto si adora un dio che è venuto a farsi crocifiggere dopodiché in quel momento da Costantino in poi le croci entrano anche nelle chiese così come entreranno più tardi le statue tutte cose che invece i cristiani all'inizio come dire tenevano molto a distanza in altre parole i cristiani dei primi secoli erano gente molto diversa poi da quelli che sono stati i cristiani che sono venuti dopo e noi ne sappiamo ancora troppo poco su di loro professore da storico qual è il significato di svolta della vicenda della morte della risurrezione di Gesù che significa la nascita del movimento cristiano e il fatto che il movimento cristiano benché appunto spiato dalla polizia e tenuto d'occhio dai governatori come al tempo di Traiano e di Plinio abbia continuato a vivere a prosperare a crescere nell'impero romano e che poi a un certo punto si sia affermato e abbia spazzato via tutto il vecchio mondo religioso ecco in questo senso è vero che l'esperienza di Gesù e del cristianesimo è una delle grandi svolte della storia umana perché fino a quel momento per millenni chiunque pensasse alla religione al cielo alle potenze celesti era politeista tanti dei tante divinità ognuno alle sue e nel mondo di oggi invece posizioni di questo tipo sono molto ridimensionate nel mondo di oggi dominano grandi religioni che credono in un unico dio sempre lo stesso fra l'altro sia per i cristiani sia per gli ebrei sia per i musulmani questo è un cambiamento veramente radicale e viene dal Medio Oriente il Medio Oriente che millenni prima aveva dato l'agricoltura l'allevamento le città in quel momento dà all'umanità un'altra cosa non dico migliore ma diversa e che ha cambiato di nuovo il mondo le grandi religioni monoteiste e lì davvero c'è una forza in questi popoli che nei nostri documentari sono rappresentati come straccioni con addosso appunto stoffe rappezzate scalzi in mezzo alla sabbia c'è una forza in quei popoli che ha cambiato per più di una volta insomma la storia del mondo tutto viene da lì ed è un mondo che dobbiamo quindi conoscere sempre meglio e rispettare nella sua complessità quell'unico libro in aggiunta ce lo devi dare adesso sì ne do uno perché do un libro di sintesi su tutti questi argomenti c'è una marea di studi specialistici ma qui bisogna farsi un'idea generale di cos'è stato il cristianesimo ai tempi di Gesù e io direi quindi un libro di uno storico che si chiama Paul Mattei ma è un francese quindi bisognerà dire Mattei il cristianesimo antico da Gesù a Costantino ringrazio il professore Alessandro Barbero e ringrazio anche per il loro approfondimento Emanuele Lucchetti Francesca Fanelli Pietro Sorace e passo alle conclusioni L'ha detto un papa Benedetto XVI e l'ha ripetito anche adesso Alessandro Barbero la figura di Giuda non può essere più considerata come quella di un volgare traditore Giacomo Todeschini ha studiato la questione di 30 denari e stabilendo che era pochissimo che non era possibile che una così importante decisione storica come quella di consegnare Gesù ai Romani fosse determinata da una cifra così bassa e Orge Luis Borges in finzioni si è intrattenuto a lungo sulla figura di Giuda che anzi aveva ben capito qual era la missione di Gesù e d'accordo con Gesù l'avrebbe assecondata e Thomas De Quince scrisse anche che Giuda intervenne nel dibattito che c'era allora se gli ebrei dovessero ribellarsi ai Romani l'occupazione romana con la lotta armata o con una rivoluzione pacifica e fu dentro questo dibattito che Giuda svolse la sua funzione